Buonasera a tutti, grazie per la cortese attesa. Come sapete i risultati di questa elezione politica sono ancora incerti, solo domani sarà possibile una valutazione più approfondita. Nell'ambito di questi risultati ancora incerti, Scelta Civica e la nostra coalizione ottengono un risultato soddisfacente. Era stato da alcuni ipotizzato anche leggermente superiore, ma devo dire che io sono molto soddisfatto e noi siamo molto soddisfatti alla luce di alcuni elementi. Anzitutto i tempi. Noi abbiamo dato notizia della volontà di istituire questa lista e questa coalizione il 4 gennaio. Da allora sono passati 50 giorni. Abbiamo avuto oltre 3 milioni e 200 mila elettori. Siamo partiti da zero, senza un partito alle spalle, senza strutture, senza mezzi e devo dire anche con esperienza molto limitata. E' come se ogni giorno avessimo acquisito 60 mila elettori o più. E' questo con un programma nel quale non sono state fatte promesse, ma è stato articolato, presentato agli elettori, un progetto realistico per proseguire un percorso iniziato nella fatica collettiva nel novembre del 2011, che prima ha comportato il risanamento finanziario dell'Italia e poi ha delineato una prospettiva per mettere a frutto quei sacrifici e costruire sulle riforme strutturali nel frattempo introdotte. Questo avveniva il 4 gennaio e nelle settimane successive, questa proposta agli italiani avveniva dopo una esperienza di governo alla quale eravamo stati chiamati, che come tutti ricordano non è stata esattamente costruita andando in cerca di popolarità, ma nell'esclusivo interesse del mettere in sicurezza il nostro Paese. I nostri elettori hanno fatto una scelta coraggiosa e di fronte ad una proposta politica nuova, nuovissima, che ha fatto appello al senso di responsabilità degli italiani e li ha invitati a votare, e questo loro hanno fatto, mi permetto di insistere, più di 3 milioni di persone, di italiani, che hanno votato qualcosa che prima non esisteva e l'hanno votato non nel proprio interesse, ma nell'interesse generale. E questo l'appello che noi avevamo rivolto loro. Credo che anche considerato il quadro oggi emerso, acquisti, se possibile più rilievo di quello che avevamo all'inizio immaginato, la presenza di una entità politica, di una forza politica, che ha fatto largo appello alla società civile, presso la quale essa è incardinata, che è mossa da uno spirito di riforma, non di conservazione, e che ha un saldo ancoraggio all'Europa, Europa che non prende per un dato immutabile, ma che mira a far evolvere nel tempo, alla luce di una forte visione italiana dell'avvenire dell'Europa. Io desidero ringraziare sinceramente queste elettrici e questi elettori italiani, desidero confermare loro che questa idea che si è incarnata in una proposta e che è stata suffragata da questi voti e che diviene realtà politica, che sarà presente al Senato e alla Camera dei Deputati in virtù dei risultati raggiunti, che questa entità diviene da domani struttura destinata a durare e, ne siamo certi, a interpretare sempre di più e sempre meglio i desideri, le aspirazioni di quei tanti italiani che per il proprio Paese, ma soprattutto per i propri figli, vogliono un futuro saldamente ancorato all'Europa e a un Paese competitivo e a una società più equa. Sono anche molto grato ai nostri candidati, qui abbiamo alcune personalità che sono state non solo candidati, ma anche elementi di spinta in questo progetto, anzi se ne sono occupati prima di me e sono riusciti a convincermi a intraprendere questo percorso con loro, li ringrazio e sono particolarmente sensibile a quei candidati che noi abbiamo temporaneamente sottratto alla società civile con loro sacrificio, donne e uomini di tutte le regioni, di tutte le provenienze sociali, professionali, culturali, che sono state sensibili all'esigenza particolarissima che l'Italia in questo momento ha. Credo che il risultato elettorale, che rispettiamo come qualsiasi risultato elettorale in una democrazia va rispettato, sottolinei ancora di più il ruolo che queste donne, questi uomini che sederanno con noi in Parlamento avranno per forgiare forza relativamente piccola, ma credo particolarmente viva e convinta, il futuro della politica e della società italiana. Infine voglio ringraziare, e ce ne sono moltissimi in queste piccole stanze del nostro modesto quartier generale che abbiamo scoperto diversi giorni dopo il fatidico 4 gennaio, ci siamo buttati prima nel mercato degli affitti che nel mercato della grande politica, nel quale peraltro non siamo mai entrati perché non l'abbiamo mai interpretata come un mercato. E in queste stanze e altrove, in tantissimi punti del territorio italiano e anche all'estero, abbiamo acceso scintille che insieme, soprattutto scintille giovani, di donne e di uomini che si sono molto appassionate a questa idea, che hanno dimostrato grande entusiasmo, ci hanno creduto subito, questo ci ha molto onorati e motivati. Ripeto, noi non abbiamo fatto promesse a nessuno e né nell'attività di governo, né nella presentazione alle elezioni, e quindi è per genuino sguardo verso il futuro che tante energie fresche hanno collaborato con noi. A loro tutti do un ringraziamento molto, molto sincero, molto vivo. Un'ultima parola di carattere generale. Abbiamo detto che i risultati sono ancora incerti, saranno necessarie meditazioni. Una cosa è certa fin d'ora. Il ruolo, permettetemi di chiamarlo esorbitante, che avrà avuto il premio di maggioranza nell'aggiudicare i risultati di queste elezioni in termini di seggi alla Camera dei Deputati. Credo che non esista paese nel quale sia così marcato e così pronunciato un pur comprensibile in sé premio di maggioranza inteso a facilitare, come avviene in diversi Paesi, la governabilità, ma non la sproporzione tra il risultato elettorale e la rappresentazione parlamentare. Questa, accanto a tante altre caratteristiche di questa legge elettorale che ha avuto nella letteratura e nella prassi il nome che si merita, queste sono le ragioni per cui sarebbe stato così fondamentale che le forze politiche trovassero un accordo per modificare questa legge elettorale. il fatto che in un anno in cui era stato riconosciuto, anzi rivendicato dal Parlamento come suo compito esclusivo il modificare la legge elettorale, in un anno in cui il governo, certo sostenuto in Parlamento dai partiti, si occupava soprattutto di risolvere per i problemi economici e economico-sociali del Paese è veramente motivo di grandissimo rammarico che malgrado i ripetuti e alti moniti del Capo dello Stato la legge elettorale non sia stata modificata. Credo che questo sia stata una grossa responsabilità delle forze politiche e ritroviamo anche in questa mancata riforma in un anno in cui tante riforme avvenivano nella parte economico-sociale del Paese uno dei motivi di disaffezione e di distanza e di rivendicazione dell'opinione pubblica nei confronti della classe politica. Un governo al Paese va comunque garantito, è prematuro ipotizzare qualsiasi soluzione né del resto tocca a me fin d'ora tuttavia ritengo essenziale che si usi la massima trasparenza tra le forze politiche siamo tutti di fronte a una responsabilità molto grave va assicurato un governo al Paese con trasparenza alla luce del sole e mi permetto di formulare un auspicio un governo che prosegua faccia meglio faccia di più ma se possibile non dissipi spero che l'accento sia giusto non 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 si permetta di dissipare i molti sacrifici che i cittadini italiani hanno fatto per consentire al proprio Paese di risollevarsi con le proprie forze vi ringrazio molto per la vostra attenzione in questa serata conclusiva e attraverso ogni parte d'Italia per l'attenzione che la stampa italiana internazionale ha voluto riservare riservare i media hanno voluto riservare a questa neonata ma già stabilita forza politica grazie come ho detto signora ogni ipotesi a questo stadio è prematura e noi abbiamo il comune atteggiamento di ritenere importante la governabilità del Paese del resto i miei colleghi e io l'abbiamo assicurata la governabilità anche in un momento in cui veniva ritenuto estremamente difficile governare l'Italia a partire dalla metà del 2011 riteniamo anche che la governabilità non debba essere una governabilità qualunque ma governare è un verbo carico di significato noi ospitiamo una governabilità che faccia andare avanti il Paese non che semplicemente lo faccia galleggiare nel punto in cui si trova però sembra che i mercati siano estremamente preoccupati rispetto ai risultati comunque segna un momento di instabilità almeno nei dati che abbiamo adesso c'è preoccupazione c'è un problema qualunque sia la preoccupazione e mi auguro che sia limitata posso assicurarle assicurarla che la turbolenza nei mercati è comunque molto minore di quella che in altri momenti avremmo avuto grazie alla riacquisita le basi per il risanamento della finanza italiana e anche per far sì che quel momento inevitabilmente di un certo travaglio che in ogni paese democratico si affronta che è quello delle elezioni politiche avvenisse nel contesto il più tranquillo possibile e il governo non cessa questa sera di essere in carica ha tutti gli strumenti per vigilare sulla situazione naturalmente sia come presidente del consiglio in carica per gli affari correnti sia come responsabile di una delle forze politiche presenti nel nuovo Parlamento auspico molto vivamente che tutta questa fase di inevitabile travaglio avvenga cercando di dare buone soluzioni ai cittadini italiani delle quali fanno anche parte il cercare di turbare il meno possibile il contesto finanziario dal quale tutti dipendiamo perché siamo tutti integrati in un sistema aperto buonasera presidente Piero Bosio Radio Popolare lei pensa che la strada migliore sia un governo di l'ambiente devo ripetere chiedo scusa ma devo veramente ripetere che ogni ipotesi è prematura in più sappiamo che spetta al capo dello Stato il compito dopo essersi consultato con le autorità istituzionali e le forze politiche di individuare la strada quindi sarebbe particolarmente inopportuno che anche ove io avessi una chiarissima idea in testa la manifestanza di questa sera Presidente Andrea Bancani che ha 7 riassumo in maniera un po' brutale Terzani non ha vinto Berlusconi non ha perso Grillo con grande exploace non aspettava questo risultato dal Movimento 5 Stelle oltre ogni previsione è sicuramente un risultato molto rilevante credo che vada al di là delle delle aspettative credo che non sia tuttavia sorprendente vista la quantità di delusione che la politica nelle sue forme tradizionali e soprattutto del bipolarismo conflittuale esistito in Italia negli ultimi 15 anni ha disseminato nasce da un humus non diverso di profonda insoddisfazione verso la politica anche il notevole avvicinamento di questi alcuni milioni di elettori alla nostra proposta politica molto simile dal punto di vista dell'insoddisfazione verso ciò che esiste a quella che ha alimentato il voto per il Movimento 5 Stelle molto diversa noi riteniamo dal punto di vista della proposta grazie 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 mille ultima 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 ho parlato sono state valutazioni che non non mi sembra che contenessero elementi particolarmente rilevanti che i singoli non abbiano già comunicato grazie 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 grazie